Se avete un iPhone con iOS 11 e se avete tante applicazioni come Instagram, Facebook e così via sicuramente vi ritroverete con tutte le notifiche nella schermata di blocco ovviamente nella schermata delle notifiche di iOS 11 in questo video vi farò vedere un po' come gestire al meglio le notifiche dei vostri dispositivi Apple eliminando per ogni singola applicazione la possibilità di vederla nella cronologia anche del blocco schermo perché altrimenti veramente si finisce per impazzire e per perdere magari le notifiche più importanti lo faremo con le impostazioni di iOS quindi non servirà alcuna applicazione e nessun trucchetto è una cosa molto semplice, io sono Dario Caliendo, benvenuto in un nuovo video di TechFanPage Per gestire al meglio le notifiche di iOS 11 il mio consiglio è quello di avviare le impostazioni del sistema operativo scegliere la voce notifiche e per ogni applicazione effettuare questa operazione supponiamo di aprire un'applicazione che vi inonda di notifiche nella cronologia il mio consiglio è quello di entrare nell'app, disattivare la voce mostra nella cronologia e se volete potete anche scegliere se mostrare l'anteprima di questa applicazione sempre quando il dispositivo è sbloccato oppure mai, selezionando mai per esempio e non vedrete l'anteprima nella schermata di blocco di iOS e magari non verrete invasi dalle notifiche di quella determinata applicazione potrà sembrarvi una sciocchezza, potrà sembrarvi una banalità ma credetemi, gestire le notifiche al meglio in iOS 11 è una cosa comoda soprattutto se avete tante applicazioni come Instagram che ad ogni like vi notifica e vi riempie la cronologia io sono Davide Caliendo, appuntamento al prossimo video di TechFanPage